Maxi operazione della Polizia Postale di Catania con il coordinamento del Servizio Polizia Postale delle Comunicazioni di Roma contro lo streaming illegale che ha oscurato 1.500.000 utenti con abbonamenti falsi. Sono 45 le persone indagate dalla Procura di Catania per associazione per delinquere, accesso abusivo a sistema informatico, frodo informatica, riproduzione e diffusione a mezzo internet di opere dell'ingegno. Un giro d'affari illegale per milioni di euro a danno di Sky, Dazon, Mediaset, Netflix e tanti altri. I abbonati pagavano un canone di 10 euro ciascuno al mese creando un giro d'affari fraudolento mensile da 15 milioni. I provvedimenti sono stati eseguiti in diverse città italiane e sono stati impiegati nell'operazione più di 200 specialisti provenienti da 11 compartimenti regionali della Polizia Postale che operano sul territorio di 18 province che hanno smantellato l'infrastruttura sia sotto il profilo organizzativo che tecnologico. Durante le perquisizioni è stato sequestrato numeroso materiale informatico, dei server e i dispositivi legali utilizzati per le connessioni e le attività di diffusione dello streaming. Nelle abitazioni di alcuni degli indagati è stato sequestrato denaro incontante per decine di migliaia di euro ritenuto provento dell'attività illecita. Nelle abitazioni di migliaia di euro ritenuto provento dell'attività illecita. Nelle abitazioni di migliaia di boldestà